Ed eccoci giunti infine nel cuore pulsante di tutto il corridore. Qui si possono dire le voci dei professori e i cuori partitanti degli studenti. Grazie per la verifica e l'interesse per la lezione. La diffusa universale vuole di trovare una propria strada, futuro e maestra, non solo attraverso i libri e i quaderni, ma anche attraverso gli apporti umani e reali. Qui nei corridoi tutto tace e tutto risuona, di mormoria, sopighi ed eccitazioni autoniche, di paure nascoste e speranze manifeste. Qui nei corridoi si vede tutto e niente, si aspetta il suono della campanella o si desidera che non ha più domani. Ti sei dato la poesia? Si vede proprio che sei dello scientifico. Grazie per la visione!